eccoci qua amici con il nuovo video della casetta da 4x4 come vedete siamo stati fermi un po' per questi giorni di pioggia stiamo comunque procedendo e come vedete piano piano la casetta prende forma andiamo a vedere un po' di quali lavori siamo andati avanti niente praticamente ho da questa parte ovviamente solo improntata la parete giusto per dare un po' più di stabilità alla struttura però praticamente ho messo come vedete non sono neanche proprio mi squadro messo una vittina qui una un po più in su si ecco insomma giusto che la struttura sia stabile in modo che io riesca andare avanti con i lavori ecco vedete la struttura questa qui sarà la parte posteriore ho fatto le alette per la prolunga praticamente per prolungare il pezzo del tetto mentre di qua andiamo a vedere questa sarà la parte davanti troppo qua ancora tutto in cantiere ovviamente quindi c'è un po di tempo ecco questo qui sarà praticamente la veranda che deve ancora fare il pavimento è praticamente qui dove ho messo gli altri pezzi della parete lì mi sono fermato perché vi dovrò fare una finestra mentre nel primo quadrante cioè questo qua dovrò fare la porta no scusate nel secondo quadrante devo mettere la finestra e nel primo devo mettere la porta ecco questa velandina dove devo fare poi tutto il suo piccolo recinto poi ho iniziato a montare qualche quadrante sopra per il tetto ecco se si vede se si riesce a notare ok questo è il suo interno oramai il pavimento totalmente stabile anche se ovviamente non c'è niente di avvitato quindi diciamo che non è ancora al top poi comunque il legno dovrà essere tutto pulito levigato quindi insomma il lavoro è ancora un lavoro abbastanza lungo ok questo è un altro aggiornamento adesso mi ho sposto per farvelo vedere magari meglio da un'altra angolazione insomma la struttura incomincia a vedersi un po meglio ok ci vediamo al prossimo video per i nuovi aggiornamenti